ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi seconda parte del video dedicato alle stesure quindi proprio agli esempi di stesure io per fare un po' prima questa volta ho già tagliato il mazzo se non avete visto il video che ho fatto solo sugli arcani minori ve lo lascio nelle schede vi invito ad andare a vederlo facevo degli esempi di stesura appunto quindi utilizzeremo il metodo della croce la domanda del consultante è io lavoro in questo momento mi hanno offerto un nuovo lavoro che cosa devo fare perché sono indeciso quindi voglio sapere un po' com'è la situazione e noi andiamo a fargli una stesura a croce in cui la prima carta indica la situazione attuale l'argomento la seconda carta indica qualcosa che lo tormenta la terza carta indica la soluzione possibile che si può mettere in atto e poi c'è quella del risultato finale quindi noi adesso andiamo a vedere com'è la situazione di questa persona vediamo che abbiamo la luna nella situazione attuale nella seconda carta abbiamo le stelle la terza carta è la temperanza e la quarta carta quella del risultato finale è la forza in questo caso abbiamo solo arcani maggiori quindi andiamo un pochino a vedere quali possono essere i significati e la situazione di questa persona come vi dicevo l'altra volta poi dovete se siete principianti cercare di vedere prima le soluzioni dei singoli arcani e poi fate un discorso più generale altrimenti rischiate di confondervi un pochino allora qui noi abbiamo la luna quindi questa carta che cosa sta a significare ricordatevi che stiamo parlando di lavoro quindi ambito professionale questa carta significa paura incertezza ci sono dei timori praticamente la persona ha paura che accettando il nuovo lavoro potrebbe sbagliare potrebbe fallire quindi è molto incerto e molto spaventato da questa cosa la seconda carta le stelle questa è la posizione del tormento cioè quello che tormenta al consultante un po' l'abbiamo già visto nella prima carta qui c'è incertezza c'è paura di sbagliare di fare la scelta sbagliata le stelle sono una carta positiva però infatti quello che tormenta al consultante è che diciamo ha paura di non riuscire a valutare le cose in maniera più positiva quindi lui in qualche modo è consapevole che il nuovo lavoro potrebbe portare delle cose positive quindi sa che è all'inizio di un'attività che può essere veramente piena di prospettive ci può essere una carriera illustre ma nonostante questo lui ha paura però è tormentato perché lui lo sa che le cose potrebbero andare bene sa che ha davanti delle prospettive migliori rispetto al lavoro attuale infatti è tormentato da questo perché lui ha una paura terribile però dall'altra parte sa benissimo che questa può essere una buona opportunità infatti è tormentato in questa posizione che è quella della possibile soluzione da mettere in atto abbiamo la temperanza questa carta significa che la persona deve avere pazienza e prendersi tempo fare le cose con calma quindi la soluzione che lui può mettere in atto in questa situazione è cercare di decidere con calma quindi prendersi tempo chiedere che gli venga dato più tempo per valutare le cose e come risultato finale abbiamo la forza la forza sta a simboleggiare comunque un'energia dei buoni risultati delle cose che sono state fatte comunque in un modo molto diciamo propositivo molto produttivo anche da un certo punto di vista c'è una grande energia perché è perfettamente in grado la persona di fare fronte ai compiti che gli vengono assegnati quindi per fare un riassunto generale noi abbiamo tanta paura e tanta incertezza abbiamo il fatto che comunque la persona è perfettamente consapevole che la situazione potrebbe essere buona per lui potrebbero esserci delle buone prospettive quindi è tormentato perché da una parte lo sa ma dall'altra paura quindi quello che lui può fare è chiedere più tempo per decidere chiedere proprio che gli venga dato del tempo materiale in modo che lui con calma possa valutare tutte le cose tutti gli elementi in gioco e prendere la decisione con calma se farà così ci sarà un buon risultato perché comunque lui è una persona in grado perfettamente di svolgere il nuovo lavoro e di svolgere i compiti che gli vengono assegnati quindi se farà in questo modo ci sarà un'energia ci sarà un risultato positivo e un successo quindi questo è un esempio di quello che potrebbe essere il risultato di una stesura con una domanda di questo tipo io vi do appuntamento all'ultimo video dedicato a questo tipo di stesura in cui andremo a vedere che cosa succede se escono arcani maggiori e arcani minori insieme io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme